Ecco, mi racconta la prima volta che lei è entrato là sotto, che sensazione ha avuto? Prima volta sono entrati, parto da casa con una lampa appuntamento, stanno facendo una sala di macchine in centro a questa galleria a profondità, credo due o trecento metri di profondità, sotto il livello, credo. Mi danno una lampa a carburo perché c'era altro, partendo da casa già mi faccio scorrere su perché c'era coprifuoco e non ho pensato, ho acceso la lampa a carburo a casa, questo qua tedesco mi scorre lassù e vado dentro, certo mi ha fatto un effetto, andare giù al buio, mio padre mi ha dato un po' di direzione ma la paura c'era. Far tutte queste scali, spostarsi dopo 250-260 scalini non uguali, in altezza, far due o trecento metri e arrivare al montacarico, il montacarico era pieno di minatori, tutti silenziosi, sembrava andare alla morte, un buio pesto, c'era un lumino soli, ha tutte le lampade a carburo spente, siamo arrivati e dove? Che estraggono il minerale. Gallerie tutte buie, si sentiva dei rumori, il cigolio di treni perché c'è delle gare un po' in curva, i trenini e il treno che tirava questi carelli, un cigolio, erano impressionati, ratti dappertutto, ecco questo qua, un'impressione, paura, paura un po', visto comunque, ecco.